Ciao Marcello, ciao amici Uantinezzi di Topland e di Topplanet. Che dire, l'ennesima finale persa, l'ennesima opportunità di poter vincere questa Coppa che è veramente maledetta per noi. C'è grande delusione perché io ero convinto, come tanti altri, che questa sera la potevamo vincere e portare a casa. Non mi spiego questa Juve che nel primo tempo abbiamo tenuto, abbiamo comunque giocato nonostante Cristiano Ronaldo ha segnato, si sono portati in vantaggio, il Real si è portato in vantaggio, abbiamo reagito e poi abbiamo pareggiato Grazia Marione con un gran gol. E poi, poi niente, nel secondo tempo pensavo di vedere una Juve, un'altra Juve, invece siamo stati negli spogliatoi perché non siamo neanche entrati in campo. abbiamo deciso di servirgli la Coppa su un piatto d'argento così al Real perché noi non abbiamo fatto nulla per impedirglielo, cioè proprio non ci eravamo proprio con la testa. ho visto il Real nel secondo tempo con un altro piglio proprio, cioè avevano voglia di vincere questa partita. Invece noi non ho visto quell'atteggiamento che ci va in una finale. e questa è la mia grande delusione, io non salvo proprio nessuno, non salvo nessuno, tutti male e anche la difesa, la peggior difesa che ho visto quest'anno. le marcatura non sono state all'altezza e poi abbiamo un centrocampo che è troppo debole, troppo. Abbiamo bisogno di rinforze centrocampo, di un centrocampo più forte, più potente. che dire purtroppo un giocatore secondo me è stanco, è stanco e ci serve un giocatore di più sostanza. E poi anche Iguain questa sera proprio perdeva palloni, continuava a perdere palloni, non riusciva a proteggere un pallone, questo secondo me è una mancanza, cioè non ci sei, non c'erano con la testa perché è solo quello e anche Dybala non riusciva a fare quello che voleva. che dire, abbiamo perso una grande occasione, abbiamo perso una grande occasione, questa era l'occasione giusta anche perché il nostro cammino in Champions quest'anno è stato grandioso, straordinario, non avrei mai più pensato che giocassimo una finale così brutta così. non lo so, adesso secondo me devono farsi un esame di coscienza perché non hanno avuto l'atteggiamento giusto, pensavo che fossero concentrati invece non lo erano, forse troppa pressione, quella ansia che abbiamo, che nelle finali abbiamo troppa paura di vincere, sarà quello. Niente, ti saluto Marcello, al prossimo video e fino alla fine Forza Juve!